Se potessi vedere la tua vita dall'inizio alla fine, cambieresti qualcosa? Questa è la domanda chiave di Arrival, il film americano di fantascienza del 2016, diretto da Denis Villeneuve, basato sul breve racconto del 1998, Storie della tua vita di Ted Chiang L'adattamento cinematografico è fedele a molti intenti del racconto di Chiang, ma nel film ci sono alcuni elementi che non sono presenti nella novella. Sia il breve racconto che il film seguono la stessa storia, di un'esperta linguista scelta dall'esercito degli Stati Uniti per tradurre il linguaggio di una razza aliena, chiamata Eptapoti, giunta improvvisamente sulla terra. Nel breve racconto, lei è un'esperta linguista, ma non viene mai specificato cosa le faccia nella vita. Nel film si vede che lei è una professoressa di linguistica presso un'università. In entrambi, il personaggio principale, Louis Banks, interpretato da Amy Adams, inizia a raccontare una storia a sua figlia riguardo alla sua vita. Da un punto di vista narrativo, Storia della tua vita è narrato in modo molto diretto, mentre Arrival è molto più toccante e misterioso. Entrambi seguono la storia cronologica del lavoro di Louis a contatto con gli Eptapoti, narrando con la tradizionale prima persona, ma ci sono alcune parti in cui la grammatica passa tra frasi al passato e al futuro. All'inizio sembrano tutti ricordi, come flashback. Si vede come Louis gioca con sua figlia, come la cresce da sola, ma sfortunatamente un giorno sua figlia viene colpita da una brutta malattia. Sembra si tratti del cancro, anche se nella novella lei muore accidentalmente scalando una montagna. Ma Louis non sta ricordando il suo passato, ma sta vivendo momenti precognitivi del suo futuro, in cui Louis e Ian avranno una figlia che vedranno morire. Ma chi è Ian? Ian è l'astrofisico che aiuterà Louis a lavorare per l'esercito degli Stati Uniti, per il colonnello Weber, riguardo alla missione degli alieni. Ma dall'inizio non sembrano andare così d'accordo. Per quanto riguarda questi strani alieni, gli etapodi, che risiedono in una valle struttura nera, Louis decide di adottare un approccio monolinguistico per cercare di scoprire perché loro siano qui, insegnando loro la grammatica del linguaggio umano, con l'idea di riuscire a capire le forme basi per poter formulare una domanda. Nel libro, la lingua scritta degli etapodi viene chiamata eptapode B, mentre la lingua parlata eptapode A. Al contrario, nel film, il loro linguaggio scritto è semplicemente riferito a quello degli eptapodi, in quanto quello parlato non viene proprio nominato. Nella novella non c'è alcuna tensione delle forze armate, non si parla di Cina o Russia come aggressori. Storia della tua vita è interamente focalizzato sulla percezione della vita di Louis, sulla sua scelta di avere una figlia, nonostante il dolore che causerà. Nel film, Louis fa una domanda riguardo il motivo della loro visita. Loro rispondono con la parola arma, nonostante lei sia convinta che la parola arma possa essere interpretata in diversi modi, il resto del mondo non ne vuole sapere e decide invece di attaccare gli etapodi. Inoltre, lei prende come esempio uno storico preintendimento per spiegare al colonello Weber l'importanza della comunicazione. Sia la novella che il film ammettono che questa storia non è vera, ma istruttiva. Più lei capisce il linguaggio, più inizia gradualmente a vivere il suo futuro. Infatti continua a fare visioni su sua figlia. Lei comprende che gli umani e etapodi percepiscono il tempo in modo differente. Gli umani seguono un ordine sequenzale di passato, presente e futuro. Gli etapodi ne seguono uno non lineare. La loro scrittura circolare non ha né un inizio né una fine ed è questo il motivo per cui loro sono capaci di vedere tutti gli eventi nello stesso momento. Infatti il film ruota attorno all'ipotesi di Sapirworth che afferma che il linguaggio che utilizziamo per esprimerci riflette il nostro modo di pensare. E quali sono i nomi degli etapodi? Nella novella sono chiamati Flapper e Raspberry nel film Abbott e Costello coppia comica americana nota in Italia come Gianni e Pinotto. Ma la cosa strana e interessante è che nella versione italiana del film i due alieni vengono chiamati Tom e Jerry forse perché Abbott e Costello non sono così famosi nella cultura italiana. Ora vi starete chiedendo qual è il nome della figlia di Lewis? Il suo nome è Anna. Le ha dato un nome palindromico che rappresenta il cerchio. E tutto ruota intorno allo stesso punto. La storia racconta che conoscere il futuro non sminuisce a fatto il significato di una scelta che prenderemo oggi. faکa vediamo la storia al do da